Il mio ricordo personale è, se volete, anche un po' contraddittorio, nel senso che io, quando Berlusconi scesi in campo inizialmente, ero un suo avversario politico, perché militavo a sinistra all'epoca. Poi ho avuto una mia maturazione, ormai lontana da oltre 25 anni, di civismo, di staccarmi da quell'area dalla quale provenivo e per poi approdare ultimamente proprio al Partito di Forza Italia, anche grazie a Silvio Berlusconi, che ho avuto modo non tanto e solo di apprezzare in questi anni per quanto lui è riuscito a fare in questo paese, per quanto lui è stato brutalmente combattuto per questo. Credo che siamo quasi alla pazzia noi, all'autolesionismo. Voi pensate, G7 di Napoli, dove tutti i leader mondiali erano nel nostro paese a parlare di strategie mondiali e di pace, la famosa stretta di mano tra Putin e Bush, non so se ci ricordiamo, è durato tre giorni il G7, Berlusconi era presidente del Consiglio da pochissimi mesi, la magistratura ha ben pensato di fargli arrivare un avviso di garanzia durante il G7, il suo primo avviso di garanzia, così per avere un rumore mediatico incredibile a livello mondiale. Io credo che se noi avessimo fatto governare questa persona come era giusto farla governare, perché ha vinto più volte le elezioni, invece di attaccarlo continuamente e strumentalmente attraverso la magistratura, avremmo fatto un bene all'Italia. Negli ultimi periodi lui è stato fortemente riabilitato, anche da quella sinistra che lo ha sempre combattuto, perché tutti hanno cominciato a capire che era un uomo non solo di grandi capacità e di spessore, ma che poteva essere ancora tanto utile all'Italia. Peccato che questa riabilitazione da parte di molti è arrivata un pochino tardi, quindi io l'ho conosciuto anche personalmente. Sono stato a pranzo con lui a casa del babbo di Sgarbi qualche anno fa, prima che il babbo di Sgarbi morisse a Ferrara. Era proprio di fianco a me, ho anche delle foto mentre scherziamo insieme, lui raccontava la sua solita brazzelletta come faceva sempre. Un grande ricordo che ho di lui, mi commuove nel dirlo, è quando io vinsi a Fano per la seconda volta, e ero in quel momento il sindaco più votato d'Italia, in quel momento, nelle città sopra 50.000 abitanti, e lui mi chiamò per chiedermi a suo tempo di candidarmi alla presidenza della regione Marche. Quando mi dissero è Palazzo Grazioli, le passo il presidente Berlusconi, io pensavo uno scherzo, invece ho riconosciuto la voce, io molto perplesso su questa cosa gli dissi già, gli anticipai un no di fatto, perché mi sembrava ingiusto verso chi mi aveva votato così tanto, fortemente a Fano in quel momento, ed io ero sindaco di nuovo per la seconda volta da pochi mesi, e lui però insistette e mi richiamò una seconda volta qualche giorno dopo. Io gli ribadì questa cosa, non so sinceramente come l'avrà presa. Quindi una bella persona, simpatico, un grande imprenditore, ha dato veramente tanto all'Italia, e avrebbe potuto dare tanto di più se la nostra democrazia fosse stata una democrazia un pochino più compiuta e avesse rispettato di più il voto degli italiani, senza combatterlo in tanti modi occulti e anche palesi, molto impropriamente. Un grande presidente del Consiglio, una grande persona.